Benituti nel tempo, dal 2009 ad oggi, ha installato all'interno del proprio centro abitato 104 impianti fotovoltaici che complessivamente hanno una potenza di oltre un megawatt e mezzo. A fronte di un megawatt e mezzo di potenza abbiamo una produzione che si aggira intorno ai 2.200.000 kWh, cioè 2.2 gigawatt, a fronte di un fabbisogno di 2.8, di 2.800.000 kWh. Con le comunità energetiche davvero si può realizzare quello che io chiamo democrazia energetica, cioè il fatto che o ciascun cittadino, o piuttosto ciascun nucleo familiare, o ciascun condominio, ogni quartiere in una città può produrre da sé l'energia, può accumularla questa energia e può cambiarla. Questo è, diciamo così, dovrebbe essere il top della situazione. Grazie. Grazie.